Dalla Green Economy alle buone pratiche ambientali, torna a Napoli la terza edizione di Ecologicamente, mostra mercato del consumo critico e dello sviluppo sostenibile organizzata dal comune con area comunicazione. In programma da giovedì prossimo e fino a domenica, 26 maggio, sarà il lungomare Caracciolo ad ospitare quest'anno il villaggio espositivo con aree destinate alla mobilità sostenibile, alle energie alternative e laboratori sul riciclo e riuso degli imballaggi. Diversi settori di intervento, diverse associazioni coinvolte, il mondo dell'università e alcuni marchi importanti che cominciano a investire sul settore dell'innovazione ambientale. Questa è un'ambizione che noi abbiamo, provare a far diventare Napoli una delle città importanti. lo abbiamo fatto con la nostra presenza, con progetti di qualità nell'ambito delle smart city. Obiettivo della manifestazione è dunque quello di informare e sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente. Originale il contributo delle scuole campane sul tema dell'educazione alimentare. Musica e spettacoli animeranno le serate accompagnate da pizza bio e a chilometro zero. Fondamentalmente noi ci proponiamo come contenitore di eventi. All'interno di questo contenitore ci sono tante organizzazioni che gestiscono delle singole aree. Per cui avremo la partecipazione del Cesvite che avrà attivato quest'anno in modo abbastanza importante tutta la parte di bioarchitettura e avrà all'interno un ecosportello per poter informare i cittadini su tutta una serie di pratiche legate all'efficientamento energetico e alla bioarchitettura. Abbiamo l'area con la col diretti legata all'alimentazione, mobilità sostenibile, con le biciclette elettriche, data assistite e quant'altro. Poi ovviamente enorme spazio soprattutto al terzo settore, per cui ci sarà una sorta di mostra del terzo settore. La Sun, Seconda Università di Napoli, mostrerà un progetto molto carino realizzato con le scuole di Napoli per cui attiveranno sul lungomare una serie di orti, installazioni per spiegare ai bambini e alle famiglie l'importanza di questo settore.